buona giornata amici dai fano tv ben trovati alla rassegna stampa di oggi sabato 28 gennaio 2023 ebbene l'ospite della settimana oggi che commenterà con noi la rassegna stampa e claudio orazzi buongiorno claudio buongiorno claudio lo conoscete tutti e vicepresidente dell'associazione lupus in fabola ed è uno dei più determinati dobbiamo dire ambientalisti che tutelano il nostro ambiente insomma meno cerca di farlo ma abbiamo molta carne al fuoco stamattina per claudio ci sono molti argomenti che lo interessano da vicino e quindi vedremo anche la sua presa di posizione intanto partiamo con l'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia santo maso d'aquino di famiglia nobile era parente addirittura di federico barbarossa studiò a monte cassino poi all'università di napoli a quella di parigi entrò nell'ordine dei domenicani e fu un grande dottore della chiesa oltre a essere il teologo della corte pontificia santo maso d'aquino un santo veramente conosciuto da tutti e vediamo anche le previsioni del tempo oggi sulla nostra regione tempo brutto dobbiamo dire il weekend non si profila con un bel sole anzi ci saranno molti nubi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 7 gradi la minima di 6 quindi una brevissima escursione termica i venti saranno tesi da nord nord ovest il mare è mosso quindi la temperatura da 6 a 7 gradi praticamente sempre quella sia di giorno che di notte bene apriamo i giornali apriamo i giornali a partire dal resto del carlino questa mattina vediamo che l'articolo di apertura è dedicato ad un articolo di solidarietà 6 vicino è il titolo di un progetto che l'ambito sociale numero 6 ha presentato ieri a San Costanzo a Mondolfo vediamo un attimo a Mondolfo è stata la presentazione 6 vicini 6 vicino aiuti per anziani famiglie fragili presentato dall'ambito sociale il sistema integrato di servizi di prossimità che copre tra l'altro a Fano Fano e altri 8 comuni il contatto domiciliare ebbene tra le azioni previste da questo progetto vediamo l'assistenza domiciliare mediante l'esplettamento del servizio spesa di sbrigopratiche accompagnamento agli uffici pubblici e nelle sedi sanitarie quindi un sussidio specialmente per quelle famiglie che sono veramente impegnate all'assistenza delle persone più fragili l'articolo di fondo invece riguarda l'arzilla ed è proprio la lupus in fabola che ha suggerito questa presa di posizione arzilla è incubo piene no al taglio degli alberi che cosa si tratta Claudio? Adesso è un po' riduttivo il titolo noi diciamo che la maggior parte delle persone purtroppo pensa che per risolvere il problema idraulico sia sufficiente allargare i fiumi tagliare gli alberi sulle sponde oppure scavarli in realtà il problema è molto più complesso la cosa principale è quella di ridurre la velocità di corribazione dell'acqua dal momento in cui la pioggia scende arriva nei fossi nei torrenti nei fiumi bisogna far sì che questo processo sia il più lento possibile per questo quindi con intervenire sulla copertura del suolo con intervenire con delle vasche di laminazione in modo tale che il fiume esondi prima dei centri abitati ma invece se si allargono i fiumi e si crea il cosiddetto effetto imbuto succede quel che è successo in tante situazioni dove quando l'acqua, una grande quantità di acqua arriva nei centri abitati dove gli agili dei fiumi sono stretti perché si è costruito fino proprio nel letto del fiume e a quel punto questa grande quantità di acqua che scende in pochi giorni o in poche ore poi ovviamente va dove si riprende il posto che aveva il fiume prima per questo occorre agire con una serie di interventi puntuali ma numerevoli non è solo allargando il letto del fiume che si risolve il problema e gli alberi per esempio che sono sulle sponde servono a trattenere appunto la sponda se li tagliamo questa viene rosa e con la sponda viene giù una quantità di acqua e di detriti che peggiora la situazione ovvio che gli alberi che stanno nel letto del fiume bisogna toglierli bisogna evitare che facciano la barriera per i ponti, bisogna evitare che facciano la diga però quelli che stanno dentro, quelli che ostacolano il flusso dell'acqua con quelli che stanno fuori, che stanno in piedi non ha senso tagliarli Quindi bisogna un continuo intervento, cercare di curare la manutenzione nella maniera più costante possibile Bisogna studiare il territorio, cominciare quindi da tutto il bacino idrografico e capire quali sono una serie di interventi per poter agginare il fenomeno dell'alluvione quindi della quantità di acqua che velocemente arriva a valle e quindi al mare poi dopo c'è anche il fenomeno, per esempio, molto spesso quando ci sono questi eventi metrologici del mare che spinge verso la costa e quindi l'acqua non riesce a defluire velocemente e quindi si crea un po' di acqua che torna indietro o riflusso insomma Questa è l'immagine, vedete sul resto del Carlino, l'immagine dell'Arzilla com'è in questi giorni insomma il fiume, il torrente si è gonfiato molto ed i residenti hanno paura hanno ragione di avere paura in questo momento? Hai visto la situazione dell'Arzilla com'è? Ovviamente anch'io se abitassi lì avrei paura però bisognerebbe anche dire che chi ha comprato la casa lì forse lo sapeva dove era il fiume prima quindi capisco che ora bisogna fare di tutto per evitare che ci siano nuovi lagamenti e questo l'ho detto prima però ecco si sa che il fiume si riprende quello che aveva insomma se non si fanno gli interventi giusti per fare gli interventi giusti bisogna agire per tempo con interventi programmati e con una conoscenza del territorio quindi con uno studio del territorio C'è anche un problema di competenze perché a questo punto c'è un rimpallo per chi deve agire per chi deve curare la manutenzione dell'Arzilla tra comune, provincia, regione, consorzio di bonifica non si sa chi spetta a intervenire tu hai un'idea poi c'è anche questo contratto di fiume di cui si parla da tanto tempo ma che non giunge mai alla fase esecutiva su un contratto di fiume io ho partecipato a tante riunioni non siamo riusciti a arrivare niente di concreto per ciò che riguarda le competenze basta mettere i vari attori intorno al tavolo e poi si fanno le scelte ed è quello proprio che dovrebbe accadere nei prossimi giorni su istanza del comitato Arzilla Viva che ha richiesto appunto questo incontro tra tutti gli attori interessati giriamo pagina e parliamo di biciclette parliamo di biciclette anche questo è un argomento congeniale a Claudio Orazzi in questo caso però ne parliamo come fatto di cronaca vendeva le bici sui social erano tutte rubate è stato denunciato nei guai è finito un cinquantenne fanese che dall'inizio dell'anno aveva pubblicato dieci annunci sui social per vendere le biciclette ma che lui le prendeva dalle rastagliere della città ebbene è stato denunciato due le aveva già vendute poi ne stava vendendo altre otto le biciclette le biciclette è un mezzo privilegiato secondo la lupus in fabula che dovrebbe insomma eliminare il traffico motorizzato in modo particolare nella città in ambito urbano però insomma c'è il problema dei parcheggi c'è il problema delle isole ZTL insomma è un problema che si ripercuote ed è questione di dibattito tra i sostenitori delle auto e i sostenitori delle biciclette in questo momento abbiamo abbastanza piste ciclabili come sono queste piste ciclabili Claudio? hanno bisogno di manutenzione hanno bisogno di più sicurezza ne servono delle altre ti faccio un'altra domanda te ne ho fatte tante dovresti parlare per tutta la trasmissione cosa ne pensi per quanto riguarda la ciclovia del Metauro che in questo momento destra grandi polemiche tra chi la vuole vicino alla ferrovia e chi la vuole invece un po' più lontano? noi come associazione ci siamo sempre espressi per una scelta precisa cioè che la ciclabile del Metauro andava fatta sui binari cioè sul sedime della vecchia ferrovia metaurense e quella era la scelta secondo noi più logica meno dispendiosa e più funzionale e quello che è stato proposto alla regione è uno spezzatino un zig zag che non è interessante da un punto di vista della mobilità diciamo di lunga percorrenza può servire per piccoli spostamenti tra i quartieri per ciò che riguarda lo stato dei ciclabili a Fano è apprezzabile quel che ha fatto l'ex assessore Tonelli e che ovviamente bisogna continuare su questa linea poi noi non abbiamo condiviso per esempio la scelta di fare la ciclovia diratica nella zona di Ponte Sassos Torrette sulla spiaggia speriamo che questa decisione sia il comune abbia deciso di tornare indietro su questa scelta perché crediamo che non vada consumato l'arenile e quindi la spiaggia che è sempre più soggetta a mareggiate e quindi a erosione e di conseguenza anche la ciclabile rischia di essere danneggiata ma il percorso ci ha scelto più internamente cioè a fianco della ferrovia al lato monte poi per il resto ovviamente siamo sempre favorevoli a che l'amministrazione decide di fare nuovi ciclabili spendi soldi in nuove fiste ciclabili perché solo se si dà un'opportunità diversa ai cittadini di muoversi diversa e sicura poi scelgono di prendere la bicicletta invece della macchina c'è stato un episodio particolare per quanto riguarda la pista ciclabile dell'Arzilla in questo caso sono stati gli ambientalisti a mostrarsi contrari al progetto dell'amministrazione comunale allora siete a favore della pista ciclabile o siete al contrario della pista ciclabile però la pista dell'Arzilla è un caso particolare immagino questa è una battaglia stata una battaglia molto lunga che ovviamente come associazione abbiamo perso noi noi abbiamo sempre creduto che quel sentiero quel percorso ciclopedonale aveva bisogno di una semplice manutenzione perché stava e sta in una situazione ambientale particolarmente delicata lungo l'argino di un fiume era sufficiente spendere la metà dei soldi per sistemare tutto il sentiero quindi sia il tratto diciamo in riva destra che in riva sinistra invece sono stati spesi non ricordo neanche quanto ma tanti soldi per fare quasi un'autostrada in riva sinistra cioè quella che dà verso Gimarra e l'altro è praticamente rimasto così come era prima secondo me è una scelta sbagliata è stata fatta per accontentare alcuni cittadini ma non va nell'interesse della città con la scelta lì quindi vediamo l'articolo l'abbiamo visto sul resto del carlino lo vediamo anche sul Corriere Adriatico eccolo qua recuperate otto biciclette rubate erano in vendita su un portale web vediamo che i titoli pressa poco si assomigliano ora parliamo però di un altro genere di problema ambientale quello dell'inquinamento dell'atmosfera profil glass altro incendio lo vediamo qua eccolo qua nube nera visibile da due chilometri ieri si è verificato un altro incendio alla profil glass immediate le rilevazioni dell'ufficio ambiente del comune non sono emerse per fortuna criticità l'ARPAM comunque verificherà la qualità dell'aria ebbene scoppiato poco prima di mezzogiorno questo incendio che cosa l'ha determinato l'hanno l'ha determinato alcune scintille che sono scaturite da un macchinario che poi ci sono propagate ad un olio lubrificante e quindi l'incendio è scaturito e scoppiato è intervenuto in un capannone del blocco 45 di via Meda non c'è stato il tempo materiale per intervenire sul macchinario per la laminazione a caldo dell'alluminio che la frizione ha creato appunto queste scintille e di qui poi l'intervento dei vigili del fuoco comunque il problema dell'inquinamento dell'aria dello smog e soprattutto del superamento dei valori limite delle polveri sottile è un problema che a Fano esiste devo dire che rispetto al passato sta diminuendo però tra traffico e riscaldamento è questo proprio il periodo invernale quello più critico per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria cosa ne dici Claudio Allora su questo fatto della Profedas sono cose che possono succedere però a me sembra che succedano un po' troppo spesso sul discorso generale è ovvio che l'inquinamento dell'aria ha più fonti si può agire sia sull'inquinamento domestico che quello da auto credo che serva un impegno continuo da questo punto di vista la creazione di nuove strade certamente non favorisce la mobilità il trasporto pubblico e la mobilità ciclabile favorisce il trasporto su gomma privato quindi questa è una scelta che questa amministrazione sta portando avanti che non è molto coerente con la riduzione del traffico cioè dell'inquinamento atmosferico è ovvio che se si fa una strada più sulla collina l'inquinamento si può solo sulla collina però non è che diminuisce immagino immagino anche il Corriere Adriatico parla lo fa addirittura in apertura di questa notizia scintille in un laminatoio a caldo incendio e paura alla profliglass allarme a mezzogiorno intervento immediato dei vigili del fuoco e lievi dell'ARPAM sulle emissioni e poi parla anche dei precedenti il precedente incendio alla profliglass era avvenuto il 13 aprile del 2021 quindi non molto tempo fa accompagnato dai timori di una dispersione nell'ambiente di sostanze in quantità tossica esclusa dalle analisi dell'ARPAM fiamme si erano sviluppate anche il 14 maggio del 2020 quindi l'anno prima dopo mezzanotte avvolto allora un macchinario per tagliare le lamiere altri incendi poi risalgono nel 2015 e nel 2016 quasi uno ogni anno insomma a questo punto la serie è piuttosto preoccupante e vediamo anche un altro articolo che riguarda un inquinamento ambientale di altro genere lo vediamo sul Corriere Adriatico si risolva il disagio per evitare un nuovo hotel house è una dichiarazione questa di Stefano Pollegioni dell'Udc che insieme a Loretta Manocchi che è la segretaria di Fratelli d'Italia interviene sull'occupazione abusiva dell'hotel Vittoria dell'hotel diciamo del Vittoria del scusate del Vittoria Colonna del Vittoria Colonna c'era un articolo l'altro giorno sul Corriere Adriatico che evidenziava come i residenti avessero notato delle tendine addirittura sulle finestre del Vittoria Colonna come se gli abusivi non volessero che penetrassero degli sguardi indiscreti è un problema sociale questo è un problema di ordine pubblico ovviamente ma è anche un problema sociale e in più è un problema anche di carattere ambientale perché un complesso così grande chiuso inusato all'interno della città con il degrado che poi subentra costituisce anche un problema ambientale Claudio cosa ne dici? Ma io qui vedo molto più un problema sociale persone che non sanno dove andare a dormire ce ne sono troppe quindi credo che su questo aspetto i servizi sociali insieme agli operatori di volontariato che sono nella città devono in questo caso riunirsi e valutare la situazione da farsi perché se queste persone occupano degli spazi vuoti è perché non sanno dove andare ed è necessario trovargli un tetto un tetto sicuro ma anche un pasto caldo quello meno male al giorno c'è perché la mensa in San Paterniano offre pasti caldi a tutti ma anche la sera coperte insomma voglio dire non si possono lasciare queste persone così ad arrangiarsi da sole è vero è vero il problema esiste purtroppo il dormitorio di San Paterniano in questo momento è occupato dagli ucraini la Caritas cerca di fare riferimento un po' anche al Don Orione comunque il problema del senza tetto esiste è certo che dormire alla ghiaccio in questi tempi con questi rigori non è una cosa consigliabile giriamo pagina vediamo come a Cartoceto c'è stato un forum su temi caldi per un confronto civile Giovagnoni portavoce di un nuovo comitato di Cartoceto indica gli obiettivi invece a Mondolfo c'è stato il patto di sussidiarietà per aiutare i soggetti fragili lo vediamo è quel articolo di cui abbiamo parlato in apertura sul resto delle Carlino quando abbiamo letto sei vicini aiuti per anziani e famiglie fragili quindi vediamo gli due articoli pubblicati su entrambi i giornali ancora sulle pagine rifiuti selvaggi ASET non perdona 984 multati e qui abbiamo il grande problema del conferimento dei rifiuti conferimento che spesso nelle isole ecologiche è irregolare c'è chi gli abbandona fuori dei cassonetti c'è chi fa delle vere e proprie discariche abusive sono queste le sanzioni elevate dalla società nel 2022 molte sono frutto di quasi 1200 verifiche fotografiche e chi fa male il compost si vede revocata la riduzione tari che ha quelle campane nelle proprie abitazioni che devono funzionare ebbene ha un piccolo sconto della tari ma se poi il compost non funziona e questo viene revocato ebbene i rifiuti è un problema che interessa molto da vicino lupus in fabula com'è la situazione credi che l'ASET proceda nel modo giusto oppure occorrono dei correttivi allora io penso che forse un pochi 984 multati perché se ci guardiamo intorno vediamo continuamente isole ecologiche con all'esterno quantità notevole di rifiuti ma anche rifiuti ingombranti non solo rifiuti domestici e quindi è un fenomeno che è ancora lontano da risolversi per cui io credo che serve ormai visto che anche le città vicine stanno facendo questo passo un cambio appunto un cambio di passo da parte dell'amministrazione comunale dell'ASET qui serve un nuovo tipo di sistema di raccolta che obblighi i cittadini a una maggiore correttezza nelle procedure quindi i sistemi sostanzialmente sono due c'è il sistema del porta a porta a spinto dove tutte le frazioni di rifiuti sono raccolte a domicilio oppure quello dello stradale informatizzato dove però in ogni isola ecologica ci deve essere una telecamera e dove sia possibile separare i rifiuti ma anche evitare conferimenti sbagliati diciamo che la tecnologia e le esperienze che ci sono in Italia sono più che sufficienti per poter fare questo cambio di passo a Fanno abbiamo una raccolta differenziata che ormai ferma da diversi anni intorno al 70-72% per poter avanzare quindi con queste percentuali bisogna cambiare il sistema di raccolta ormai ripeto è matura insomma maturi i tempi per fare questa scelta Fanno ovviamente aspetta sempre gli altri però credo che sia un investimento da fare anche perché non è giusto che un cittadino che fa una raccolta esemplare paghi la stessa quota di Tari come quello che non differenzia nulla e questo è assolutamente giusto con una raccolta differenziata puntuale si misura quello che il cittadino conferisce si misura in termini quantitativi o in volume e il cittadino paga in funzione di quello che differenzia o non differenzia quindi questo è il futuro però dobbiamo arrivarci presto sarebbe la tariffa puntuale esatto parole povere la tariffa puntuale va collegata con un sistema di misurazione dei rifiuti conferiti ed è in atto un esperimento da parte dell'ASET in uno dei comuni vicini a Fanno per quanto riguarda il conferimento con una tessera con una tessera che poi quello che tu metti ti viene calcolato e quindi in base a questo poi paghi la tariffa è un esperimento che l'ASET sta facendo per poi introdurle anche a Fanno ma per Fanno dice che è ancora molto più difficile parlo che una piccola comunità però insomma lui dice di no non credo sia difficile bisogna volerlo tutte le cose dipende dalla volontà che si mette diciamo comunque che le multe che sono state combinate questi 984 utenti che si sono comportati in maniera irregolare vanno da 50 a 500 euro sacco abbandonato fuori del cassonetto 100 euro di multa insomma occorre anche avere un po' di giudizio ma restiamo nell'ottica dei rifiuti perché ho visto che sul Corriere Adriatico abbiamo una notizia che riguarda appunto questo argomento piano dei rifiuti bocciato dalla regione scarti industriali una gestione viziata è intervenuto l'assessore regionale Aguzzi dice abbiamo chiesto all'ATA che è l'autorità d'ambito chiarimenti sulle quantità e la provenienza insomma la regione ha bocciato il piano dei rifiuti perché dice che sono troppi i rifiuti che giungono nelle nostre discariche nella nostra discarica ormai rimasto quasi solo quella di Monteschiantello pressa poco operativa in realtà che giungono da altre regioni sono troppi e questo la società lo fa per guadagnare per magari chiudere il bilancio con qualche attività in più questi rifiuti che giungono da altre regioni insomma diminuiscono anche la durata della discarica di Monteschiantello e questo è un problema perché insomma non ci sono molti anni di sopravvivenza ancora beh questa la regione ha fatto una cosa giusta perché il piano regionale dei rifiuti prevede che nelle discariche nostre si possono conferire al massimo il 50% di rifiuti speciali o da altre comuni o da altre regioni insomma o da altre comuni quindi è ovvio che il piano predisposto alla regione contrasta col piano regionale e quindi io credo che la provincia si deve cioè l'ambito l'ata l'ambito territoriale dei rifiuti si debba per forza adeguare è ovvio che questo comporterà forse maggiori onere per i gestori perché avevano fatto dei piani finanziari di rientro diversi però è stata una scelta sbagliata quella di riempire il discarico con rifiuti provenienti da altre zone oppure con rifiuti speciali provenienti da attività attività artigianali perché questo ha comportato che i nostri discarichi si riempiscono meno e più veloci invece la scelta deve essere quella di far sì che meno rifiuti di ogni tipo andassero in discarica attraverso quindi una maggiore coltifrenziata perché ogni territorio si deve gestire i suoi rifiuti non è giusto che noi prendiamo i rifiuti che vengono da altre parti questo vale che è il contrario ok noi fare anche il contrario quindi potremmo parlare anche del pianto di biodigestione ma adesso il tempo non c'è a proposito di rifiuti c'è una telenovela ce ne sono tante di telenovela che riguardano Fano sono che i progetti che non si risolvono vengono demandati da un anno all'altro quello del digestore Claudio digestore che ci sono i privati che insistano accelerano i tempi c'è l'amministrazione comunale e l'azienda forse che latitano a questo punto nel prendere una decisione significativa di gestore nell'entroterra si sta facendo Fano ha perso un'occasione oppure le cose che stanno maturando vanno bene Fano ha perso un'occasione quando doveva farlo l'ASET vicino alla discarica quelli erano i programmi iniziali non è stato fatto niente poi ha perso un'altra occasione quando doveva decidere dove localizzare nel proprio territorio noi come associazione comunque siamo sempre stati perpesse sul biodigestore anaerobico abbiamo sempre preferito quello aerobico perché è un sistema di lavorazione dell'umido che è a moduli mentre quello anaerobico è rigido quindi bisogna conferire bisogna sempre della stessa quantità di rifiuti da conferire quindi questo significa che se il cittadino diventa più virtuoso quindi spreca meno il rifiuto organico e poi se viene a mancare dobbiamo prenderlo da fuori quindi è giusto che ci sia un impianto in provincia di lavorazione dell'umido e delle ramaglie però come associazione abbiamo sempre detto e continuiamo a sostenere che serve un biodigestore aerobico in modo tale che sia adattabile alle esigenze tempo per tempo di lavorazione di rifiuti bene cambiamo cambiamo argomento continuiamo la nostra rassegna stampa purtroppo siamo ormai giunti in conclusione voglio soltanto segnalarvi quello che è avvenuto a Colli al Metauro in modo particolare a Calcinelli vediamo qui il titolo ladri all'ora dello sprizze rubati soldi e gioielli tre appartamenti ripuliti nella fascia oraria tra le 17.30 e le 20 due erano situati vicino al campo di calcio uno in via Sant'Egidio nell'abitazione di via Sant'Egidio i ladri sono riusciti a impossessarsi di qualche centinaio di euro in contanti e di alcuni monili d'oro era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta ringrazia Claudio Orazzi per la sua partecipazione e noi ci risentiamo lunedì prossimo alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci SAVI die principi Rules per l'ammudio